In quei suoi domini si formano due cose fondamentali, una ricca concezione dell'agricoltura in ambito Lombardo e Veneto sulle setterie e una nuova concezione dell'alimentazione sui maccheroni e poi sugli spaghetti e sul pomodoro di San Marzano che ne è la conseguenza necessaria e quello si lega l'Italia, l'Italia si comincia a unire per la prima volta col pomodoro, Napoli, Toscana, Modenese e nello stesso tempo il suo concorrente inventa le patate, perché mentre lei fa fare quella parte lì alla rivoluzione fisiocratica, il suo concorrente, il suo carognone che è il grande Fritz che è alto così, Berlino e dintorni, prende a cuore la questione di cui già si parlava di questa patata che non si maniava, perché avevano sbagliato, avevano mangiato una volta la foglia e si erano abbalati, prende la patata e comincia a coltivare la patata e alla prima intenzione la patata a lui gli serve da carburante, perché scopre che distillandola, non avendo molto grano lì sopra, si fa una sorta di vodka di serie B che però iniettata nel soldato lo fa rendere molto di più, cioè un overdrive per soldati, poi da lì si passa anche l'uso della patata, si comincia a mangiare patate, loro salvano la loro Prussia dimenticata dagli uomini grazie alle patate, noi la salviamo grazie agli spaghetti, tutti e due vincenti oggi.